Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Amadeus ha spiazzato tutti nelle ultime ore. Scopriamo insieme le parole che hanno fatto il giro del web e hanno preoccupato il pubblico Amadeus è il mattatore di Rai 1 che sta facendo incuriosire e preoccupare contemporaneamente tutto il pubblico Scopriamo insieme che cosa sta accadendo in queste ore.Amadeus è uno dei fiori all'occhiello della Rai. Al conduttore sono affidati alcuni dei programmi di punta nel palinsesto Rai Basti pensare che le edizioni dei soliti ignoti hanno segnato molti record per Rai 1 e sbaragliato la concorrenza Tanto che da qualche anno, anche la Lotteria Italia sceglie il format si successo per abbinarsi al concorso ad estrazione Inoltre, Amadeus è stato confermato fino al 2024 come direttore artistico di Sanremo, raggiungendo il traguardo di Pippo Baudo Il momento per lui è davvero magico, per questo nelle ultime ore le parole estrapolate da un video hanno fatto per un attimo preoccupare tutti Vediamo insieme di cosa si tratta.L'esperienza di Sanremo è stata condivisa da Amadeus con Fiorello Tra i due è nato un legame sincero di amicizia, al di là della collaborazione professionale che quest'anno si interromperà Come è noto infatti Fiorello non ci sarà a Sanremo, a meno che non scelga di essere ospite speciale in visita per il grande finale Intanto però i due sono in vacanza e Rosario si lascia sfuggire una frase, ricordati che dopo è finito tutto A cosa si riferisce Fiorello? Fiorello prendeva ironicamente in giro Amadeus per il suo imminente compleanno Il conduttore infatti compirà 60 anni il 4 settembre prossimo e Fiorello voleva scherzare sul fatto che dopo quel traguardo, la vita per lui sarà in discesa con un addio alla gioventù Pare invece che per l'amico ci saranno ancora grandissime soddisfazioni in cantiere perché Rai investirà nel tempo su di lui con grandi e diverse proposte per gli anni a venire Niente paura e niente pensione dunque per Amadeus, che sta per tornare sul piccolo schermo a farci compagnia con il suo buon umore Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video